Marika Salerno di Vittoria con la canzone Filindiana ha vinto il primo festival città di Olivarella abbinato al format nazionale fuoriclasse Talent. Beh, ovviamente come ogni concorso, ogni serata, qualsiasi palco dove io vado a cantare è sempre una grandissima emozione, anche se non avessi vinto. Ecco, è sempre bellissimo poter cantare davanti ad un pubblico, che sia tanto che sia poco, mi emoziona sempre. 15 partecipanti che hanno infiammato il palco e divertito il pubblico, una serata di puro spettacolo inserita nel calendario festeggiamenti Santa Maria Immacolata organizzata a padre Stefano Messine da uno straordinario comitato. Al secondo posto Giulia Marsetti di Scoglitti con la canzone Cabaret e al terzo Maria Paola Chiummo di Caltanissetta con la canzone Ciao Ciao. La giuria ha premiato anche Maristella Genovese come miglior interpretazione e Ginevere Cilia come miglior presenza scenica. Beh, sono contento perché è stata una bella serata, bellissima serata. Sono stati 15 concorrenti, uno più bravo dell'altro, di diverse età, da piccoli ai mezzani, come si dice, fino ai grandi. Sono stati tutti bravi, tutti i padroni del palco, sembravano dei piccoli veterani. Se la sono cavata benissimo, sono veramente soddisfatto. Il livello si alza sempre di più. La festa di Olivarello è sempre sentito. Olivarello è un quartiere molto popolato e quindi è normale che sia così. Quando c'è un bel evento la gente partecipa. Quindi complimenti al Comitato, complimenti a Padre Stefano e complimenti anche a te. Ogni tanto lo diciamo, ma tu fai sempre cose di grande qualità. Quindi complimenti veramente anche per aver scelto di portare su questo territorio una manifestazione importante.